Un caro benvenuto ai nostri amici telespettatori di Teleoltre e benvenuti a questo nuovo appuntamento televisivo della rubrica a libro aperto. Come sapete il nostro obiettivo, il nostro scopo è quello di poter presentare e di sottoporre alla vostra attenzione dei libri che trattano argomenti di fede, società, costume, teologia e di fede cristiana. Noi abbiamo il desiderio, l'obiettivo di poter sollecitare la vostra curiosità perché la lettura dei libri possa poi portarvi a delle riflessioni più attente, più approfondite non solo su argomenti di natura storica e intellettuale ma soprattutto di natura spirituale. Oggi sono particolarmente felice di potervi sottoporre alla vostra attenzione un titolo, un testo molto particolare che è il libricino del pastore Michele Romeo intitolato Afflitti ma non ridotti agli estremi. Benvenuto al pastore Michele Romeo che ricordo insomma non ha bisogno di presentazione, il pastore della chiesa di Secondigliano, un vero uomo e servitore del Signore. Io ho letto questo libro e devo dire che si tratta di un libro di introspezione diciamo interiore, personale e un'autobiografia su un particolare momento della vita del pastore Michele Romeo. Pastore puoi provare diciamo a descriverci questo momento difficile che hai vissuto? Sì sicuramente, diciamo sono quei momenti della vita improvvisa che ti capitano come una decola sulla testa tu non te l'aspetti perché questa cosa è stata molto improvvisa, infatti anche i medici mi hanno sempre chiesto ma è possibile che lei non si sia accorto di questo? Io non mi sono accorto perché avevo qualche dolorino però di quei normali, poi all'improvviso purtroppo una sera proprio mentre facevo il culto, era il 22 gennaio del 2006 ecco questi dolori alle gambe cominciarono ad aumentare insomma fino a che insomma per si stringere dopo due giorni di notte mi si è accorto che praticamente ero rimasto paralizzato. Certo l'esperienza direi diciamo particolare per chiunque, per qualsiasi uomo, sia esso un pastore un semplice fedele, sono esperienze che colpiscono e soprattutto quando diciamo succedono come un fulmine al cessereno possono avere diciamo un po' l'effetto di sconvolgere le nostre vite io mi pare di aver capito in questo libro, soprattutto in un capitoletto che si intitola Gesù Pianse in cui il pastore Romeo appunto affronta questo argomento, come questo evento abbia avuto l'effetto di una scossa è un po' il problema anche della commozione, della fragilità, scoprendosi diciamo venendo fuori la fragilità fisica forse viene fuori anche quella un po' interiore, ci puoi raccontare un po' di questa esperienza? Sì perché diciamo ecco a me avevano, come generalmente si fa con i malati, si cerca sempre di nascondere la verità per cui ero convinto che fosse capitato insomma questo accidente, però dopo l'intervento come tanti anche insomma pazienti che stavano con me nella sala, eravamo in tre, ognuno si aveva l'intervento dopo cinque giorni insomma usciva, per cui io pensavo che si trattasse della stessa cosa poi quando dopo mi sono reso conto che praticamente la mia era una situazione un po' diversa mi sono visto diciamo ecco ancora paralizzato insomma sai e allora questa cosa mi ha scossa soprattutto ecco qual è l'emozione, quando in certi momenti dopo un periodo di fisioterapia allora c'era un momento in cui io dovevo provare a stare in piedi e quando purtroppo è successo due volte questo non succedeva praticamente allora ebbi diciamo un po' anche la paura di dover restare paralizzato questa cosa chiaramente ecco mi emozionò anche dovetti un paio di volte piangere proprio su questa situazione ma direi che questo è un aspetto straordinario perché poi voglio dire la grandezza di un uomo non si misura dalla sua diciamo austerità ma io credo che la forza e il coraggio di un uomo e in particolare di un servo del Signore sia anche quello di commuoversi spiritualmente dinanzi a questi fatti, a questi episodi. Vi ricordo stiamo presentando il libro del pastore Michele Romeo Afflitti ma non ridotti agli estremi e io volevo proprio diciamo fare riferimento ad un capitolo che si intitola Afflitto ma non ridotto all'estremo io credo che questo sia un po' anche il messaggio centrale di questo libro per quanto affranti, distrutti, scoraggiati chi ha una fede forte diciamo nel Signore anche se indebolito nel fisico può comunque avere delle forze spirituali e il pastore Romeo ce ne può dare conferma? Certo noi che abbiamo una certa praticità con la Bibbia io ricordo un versetto del Salmo 119 che il salmista dice è stato buono per me l'essere afflitto ho imparato di più la tua legge io posso dire e testimoniare che quel periodo che sicuramente è un periodo uno spartiacque nella mia vita posso dire che veramente è stato un periodo dove fisicamente mi sono indebolito perché purtroppo porto i segni di questa invalidità che mi è rimasta però posso dire ai telespettatori che spiritualmente ne sono uscito molto più forte oggi anche questa esperienza ha arricchito la mia spiritualità questo è un altro aspetto importante d'altronde spesso si dice che le cose per saperle diciamo in qualche modo combattere viverle bisogna anche sperimentarle e io credo che la vita di un pastore che per tanti anni ha servito il Signore come il pastore Michele Romeo si è un po' passati dalla condizione di magari come il pastore che va a trovare gli ammalati poi ad essere lui stesso diciamo in una condizione di malattia oggi diciamo ne possiamo parlarne bene ma effettivamente sono stati momenti duri di una malattia seria e che poteva diciamo avere dei risvolti molto più seri e gravi di quelli che ha avuto ma mi interessava proprio diciamo avere qualche tua parola proprio su questo diciamo su questa esperienza cioè prima magari andavi in ospedale a trovare degli ammalati poi ti sei trovato tu stesso in quella condizione come l'hai vissuta e insomma un po' le persone che ti hanno aiutato a venire fuori da questa situazione ma sicuramente diciamo come anche in uno dei capitoli scrivo Angeli perché in quella clinica ho trovato alcuni credenti esattamente tre che lavoravano lì per cui diciamo oltre quelle che erano le frequenti visite anzi addirittura lo scrivo un giorno il primario mi chiamò dice lei deve comunque far diminuire le persone che la vengono a trovare perché si crea troppo una confusione e infatti io dovetti dire a tanti fratelli fatemi la cortesia non venite a visitarmi era un po' difficile farlo però purtroppo c'era veramente una processione ogni giorno di persone che venivano a visitarmi però ecco queste due sorelle e questo fratello che lavoravano lì in fede chiaramente mi sono stato veramente ecco proprio di sostegno anche proprio quando riguarda la cura le cure che mi hanno prestato per cui anche qui ho visto la mano di Dio insomma che anche su questo oltre alla professionalità degli altri infermieri loro mi curavano in un modo particolare ma l'affetto diciamo cristiano la comunione fraterna credo sia un qualcosa di eccezionale che viene fuori soprattutto nel momento della difficoltà cioè è proprio in quelle circostanze che ci si rende conto dell'importanza di essere circondati da delle persone che sono legati a te non solo da un punto di vista umano ma anche proprio spirituale e la vita poi di un pastore in questo è particolarmente diciamo interessante perché poi effettivamente immagino diciamo queste scene di queste tante persone che ti venivano a trovare ma è molto bello nel libro c'è un capitolo intitolato La stanza segreta in cui praticamente in questo lungo programma riabilitativo perché ripeto è stata veramente una prova diciamo che è durata anche nel tempo che ha avuto una convalescenza diciamo lunga e dura è bello perché tu parli di questo momento in cui ben venga l'affetto fraterno ben vengano i familiari ma quel momento di intimità con il Signore che comunque sei riuscito a ritagliarti parlacene un po' di questa esperienza sì perché tra l'altro io avevo una terapia mattutina che mi portavo in una stanza dove rimanevo da solo per mezz'ora appunto che dovevo fare questa terapia e allora l'ho chiamato la stanza segreta perché posso dirti che in quel silenzio in quella riflessione veramente è stata una benedizione ho goduto dei momenti speciali con la presenza di Dio che quasi li rimbianco ma io credo che qui viene fuori come sempre diciamo anche quella che io oserei dire la capacità del Signore che ci meraviglia e ci stupisce sempre e io devo dire questo ovviamente di spendere qualche parola perché mi ha colpito molto questo aspetto perché poi un pastore sostanzialmente e tu ce lo puoi testimoniare è abituato a parlare proprio fisicamente sempre del Signore agli altri ma quanto è importante avere una comunione intima e personale con il Signore perché poi è in quei momenti che noi riusciamo ad acquisire quella forza diciamo anche quei consigli quell'intimità necessaria con il Signore per poter poi proseguire nelle difficoltà della vita ricordo stiamo presentando il libro del pastore Michele Romeo Afflitti ma non ridotti agli estremi profili di sofferenze di famiglie e di vittorie io abbiamo parlato un po' degli aspetti diciamo della sofferenza della malattia fisica che ti hanno diciamo che hanno caratterizzato questo periodo della tua vita ma io vorrei che tu ci dicessi qualcosa anche sulla famiglia carnale che in questo libro si evince ha un particolare diciamo valore per il pastore Michele Romeo lo è un po' per tutti quanti noi ma mi ha colpito io sono sempre affascinato da chi ha un senso profondo della famiglia parli diciamo dei tuoi familiari dei tuoi nipotini si vede che c'è questo attaccamento forte come ti hanno aiutato cosa rappresenta per te la famiglia e poi insomma da pastore dici diciamo il valore della famiglia nel mondo di oggi ma io posso dire anzitutto che è meraviglioso poter dire come disse un grande conduttiero di migliaia di anni fa io e la mia casa la mia famiglia serviamo il Signore per cui la famiglia che grazie a Dio il Signore mi ha concesso di avere che ho una famiglia meravigliosa per cui in primis mia moglie le mie figlie, i miei generi, i miei nipoti non mi hanno mai lasciato insomma ho sentito ogni giorno la loro presenza ho visto i loro volti sorridere però dietro quel sorriso vedevo la loro sofferenza e certamente la famiglia lo diciamo soprattutto in un momento che la famiglia è in crisi dopo la salvezza personale con il Signore è la cosa più importante ed è quella che ci sostiene per tutta la vita terrena in cui Dio ci darà grazia di vivere io direi di fare tesoro veramente di queste parole del pastore Romeo perché diciamo veramente oggi viene sottovalutato il ruolo della famiglia e mi colpiva quello che diceva il pastore quando giustamente afferma che dopo l'esperienza personale io credo che il miglior investimento che ognuno di noi può fare è proprio quello di arricchire la famiglia di credere nella famiglia di darsi da fare per avere diciamo una famiglia alle spalle il pastore Romeo ci ha testimoniato di un momento di difficoltà fisica duro in cui ha provato delle sofferenze fisiche notevoli eppure in questo diciamo in questo momento il ruolo della famiglia è stato fondamentale io vorrei farti un'ultima diciamo domanda che riguarda un po' questo tu ci parli nel libro di quello che è stato il tuo ritorno a casa poi diciamo i nostri telespettatori sono certi diciamo acquisteranno questo libro e leggeranno approfonditamente ciò di cui abbiamo parlato ma vorrei che tu ci dicessi qualcosa proprio qualche secondo per chiudere su quello che è stato il tuo ritorno in chiesa perché poi tu hai avuto una famiglia carnale hai una famiglia carnale ma poi la famiglia spirituale è quello che è stato un po' il perno centrale il tuo lavoro diciamo in tutti questi anni di ministero sì certamente io ricordo quella domenica che sono ritornato in chiesa dopo quasi quattro mesi è stato veramente un momento ancora oggi che ci ripenso mi riviene il nodo alla gola perché è stata una festa molta emozione veramente qualcosa che ancora oggi mi colpisce ma l'ultima cosa che volevo dire ai nostri telespettatori soprattutto che il messaggio è lì l'afflizione, la malattia molte volte quando siamo afflitti in specie in maniera pressante ecco molti si anche credenti poi si rivolgono contro Dio io credo che Dio ci ammaestra anche soprattutto nelle sofferenze è il momento in cui possiamo ascoltare di più la sua voce e farne tesoro concludiamo con questo messaggio sentito del pastore Michele Romeo io ti ringrazio, sono felice di averti avuto qui perché abbiamo presentato un libro che io veramente vi consiglio di leggere per un po' arricchire anche la vostra visione spirituale della vita e delle cose vi ricordo afflitti ma non ridotti agli estremi profili di sofferenze, di famiglie e di vettore il libro è edito da EPA Media io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento come sempre alla prossima puntata grazie grazie a tutti grazie a tutti